ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti misti sono stata da OVS e sono stata anche a Lidl da Questapone e da Casanova allora da Casanova abbiamo preso io e la mia migliore amica abbiamo preso queste tazze molto molto belle di ceramica ne abbiamo presa una con l'arancio e anche il boccale così al manico è molto molto carina e poi una con l'azzurro o il blu che sia che è questa devo dire che mi piace tantissimo il fatto anche che ha il manico vedete c'è scritto good morning quindi buongiorno e con la parte di sopra in silicone devo dire che sono molto molto carine queste e costavano 6 euro e 90 sono molto molto belle belle poi abbiamo preso altre cose aspettate travel bag abbiamo preso anche la padella sì 6 euro e 90 giusto poi sempre per quanto riguarda stefania passione tazze da Lidl c'erano queste queste tazzone così e io ne ho prese due ovviamente e quindi adesso ve li faccio vedere che li apriamo perché sono sigillate ne ho prese due e ho preso questa che con il rosa ed è questa qua bellissima guardate che bella bellissima questa tazzona è tutta in ceramica e poi ha questo in silicone ed è ceramica bellissima 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 sapete sapete tutti che colleziono le tazze quindi non potevo non acquistarla e ho preso questa con il rosa che la mettiamo qua e quella con il grigio che vi apro e quella con il grigio bellissima anche grigia veramente molto molto bella ed è questa vedete è molto molto bella anche questa la parte in ceramica questa in silicone e per tenerlo se è una cosa fredda o calda la fascia questa è qui sempre in silicone devo dire che sono ottime queste questi bicchieri da passeggio c'è scritto mi piacciono tantissimo possono essere messi anche in lavatrice sono ottime quindi mi piacciono ho preso questi due colori perché poi c'era anche col verde ma non mi piacere quindi non l'ho voluto prendere poi da acqua e sapone ho preso questo set di nivea che questo alla vaniglia e troviamo tre prodotti questo è il set e si trovano tre prodotti che sono questi qua che vedete adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere è ottimo come set sono sbaglio era sulle 6,90 euro è ottimo come set perché trovate tre prodotti allora questa è una crema olio alla vaniglia è vaniglia e olio di mandorla ed è ottima io non ho sentito parlare tantissimo di questa chi l'ha provata mi ha detto che si è trovato bene quindi l'ho voluto prendere la fragranza mi piace tantissimo e quindi sono stata contenta di averla presa e di averla trovata in questo set poi questa invece è la doccia silk mousse quindi per fare la doccia io ero molto molto curiosa di utilizzare questo tipo di prodotto e fortunatamente l'ho trovato e quindi l'ho preso in questo set ed è una doccia silk mousse alla vaniglia e caramello allora l'odore è fantastico si sente di qua mamma mia è ottimo quindi non vedo l'ora di utilizzarlo questo sono 200 ml di prodotto e l'ultimo e non per importanza un lip balm sempre 24 ore di idratazione fondente sulle labbra vaniglia buttercream questi ore utilizzo li metto in borsa per ogni evenienza perché io ce l'ho dappertutto ce l'ho nei giubbotti nelle borse nello zainetto nel comodino nel bagno dappertutto un lip balm lo utilizzo solo io e alla vaniglia non ce l'avevo quindi ottimo poi andiamo avanti sono stata da OVS come vi ho detto e ho fatto acquisti ho preso delle cose di... come si chiama? aspettate che mi sto intortando allora ho preso delle cose per quanto riguarda Cosmify perchè li volevo prendere però ero molto molto indecisa e vedendoli dal vivo sinceramente mi sono decisa e li ho presi allora per prima cosa vi faccio vedere questi che sono dello youtuber DEMT DEMT una cosa del genere io chiedo scusa se l'ho detto sbagliato io non lo seguo sinceramente perchè no che non mi piace all'inizio lo vedevo poi quando alzano un po' i tacchi sinceramente non sono più quelle persone che seguivo all'inizio nel senso li vedo molto più artefatti quindi dopo non sono riuscita più a seguirlo sinceramente se una non riesce non riesce e ho preso questi due prodotti che sono un highlighter trio e un shadow shoe trio quindi questo vi faccio vedere questo che è un bonjour contour quindi una palettina di contouring per quanto riguarda questo spero di aver azzeccato il colore sinceramente questo è bonjour contour nella colorazione shadow shoe trio adesso ve lo faccio vedere sperando che si riesca a leggere ma in caso ve lo scriverò è inutile farvelo vedere così ha uno specchietto così con questo disegno qua e per fare il contouring le giardine sono queste scusate se non si vede bene ma col fatto che sono olografiche non si vede bene proprio il colore credo che ho azzeccato con la colorazione per quanto riguarda il mio viso lo spero sinceramente e mi sembrano giuste però ovviamente io non sono esperta per questo era l'unica che non era nemmeno diciamo swatchata perché anche all'OVS trovate delle cose proprio raccrapriccianti sinceramente ci sono anche rimasta male ma capita e questa vi dico quanto è costata 21,90 se non mi sbaglio perché poi una non me l'ha fatta pagare perché sono 2,4 no giusto no 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 questi sono 21,90 poi avevo uno sconto l'altra vi faccio vedere è costata sempre 21,90 questo è un E-Art Date è sempre un illuminante palettina di illuminante sempre di DMT lì non è che si capiva benissimo tutto però almeno si vedevano i prodotti ed è questo io sinceramente mi è sembrata che mi stavo sporcando sinceramente volevo prendere anche blush ma non mi hanno convinto quindi non l'ho voluti prendere e questa è la palettina di illuminanti vediamo se riesco a farveli vedere bene e col fatto che ecco questi col fatto che il packaging è olografico non si vede proprio bene i colori non ve li sbuoccio perché prima voglio sapere se sono adatti a me questi colori e poi in caso vi farò vedere tutto poi sinceramente devo andare a mangiare quindi mi voglio sbrigare poi l'altro prodotto che vi faccio vedere è quella di Deborah Fully anche lei la seguivo ma poi non e allora questa qual è? 51 finale 19,90 euro questo set è costato dove abbiamo tre prodotti tra cui queste piccolissime palettine il packaging è molto molto bello sinceramente dove c'è una una polvere credo che sia una cipria sì allora all'interno abbiamo uno specchietto e qui abbiamo il prodotto ed è una cipria bianca sì è una cipria bianca e qui invece abbiamo un highlighter quindi un illuminante ed è questo qua poi vi farò gli swatch e tutto la cosa che mi interessava di più era il rossetto questo è Mirgy quindi Mirgy M-R-G Mr. Gray credo che sia credo e il colore è questo era quello che mi piaceva di più tra i due diciamo i due kit era quello che mi piaceva di più e quindi l'ho voluto prendere di questo vi farò lo swatch perché sì infatti ero sicura al 100% di aver indovinato ed è un malva proprio quelli che piacciono a me bellissimo un bellissimo colore ne ero sicura di questo ha il packaging in cartone ed è tutto con questi disegnini qua molto molto carino l'ultima cosa che vi faccio vedere ero sicura al 100% di prenderla perché ne ho sentito parlare tantissimo bene da la maggior parte degli youtuber quindi l'ho voluto prendere ed è la cipria di Cimatti di Andrea Cimatti non seguo nemmeno lui però ho sentito parlare bene di questa cipria quindi l'ho voluta prendere il costo era di 15,90 euro e ho preso la colorazione insomma sbagliato era la più chiara dove era scritta la colorazione c'era la parte dove c'era scritta la colorazione che io non vedo allora applica la polvere con una spugnetta vabbè potete fare anche il baking con questa ah qui ed ho preso la 01 puffed rich che è la più chiara spero che sia ottima per quanto riguarda il mio incarnato allora vi faccio vedere la cipria il packaging mi piace tantissimo è rosa non so se ecco si si apre si apre così ha uno specchietto e qui ha due scomparti proprio queste per i puntini vedete così può uscire la cipria e qui ha la parte chiusa questo mi piace questo mi piace sì perché tirate la linguetta e avete tutti i buchini aperti quindi girate la manovella come alcuni prodotti che mi piacciono lo specchio è grandissimo guardate che specchio ha guardate il mio naso guardate è grandissimo è molto molto bella come vi ho detto è la 01 e il packaging è questo devo dire che è molto molto bello poi è rosa ciao e quindi non vedo l'ora di utilizzare tutti questi prodotti e farvi vedere se mi sono piaciuti non mi sono piaciuti poi vi farò una recensione su questi prodotti per quanto riguarda OVS e tutto ho finito ditemi cosa ne pensate se avete già acquistato questi prodotti se vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti vorrei sapere se la cipria è buona oppure no perché io l'ho preso sinceramente solo per il rossetto sono sincera l'ho preso solo per il rossetto non so come l'illuminante o altro un'altra cosa che voglio sapere ditemi se ci ho azzeccato per quanto riguarda la palettina del contouring io vi ripeto quale ho preso vi faccio rivedere i colori così mi dite se è giusto o non è giusto questi sono i colori ditemi se ho azzeccato i colori per quanto riguarda il mio viso perché li voglio utilizzare e proprio siccome sto imparando a mettere il contouring a fare il contouring volevo sapere se avevo azzeccato con i colori niente ragazze che dirvi di più io per quanto riguarda questo video ho finito spero che a chi si a chi si ciao chi si chi si spero che i miei acquisti vi siano piaciuti scrivetemi un commentino se vi sono piaciuti se non vi sono piaciuti qualsiasi commentino basta essere educati io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao